In questa importante giornata di mobilitazione a sostegno del presidio di polizia ferroviaria di Sulmona non faccio mancare il mio sostegno a una sacrosante e giusta battaglia e quanto richiarato dalla senatrice Stefania Pezzopane. Ho parlato in settimana a secco ministro Minniti con il sottosegretario per sollecitargli una maggiore attenzione e prevedere un'ulteriore proroga. Trovo sbagliato confermare le precedenti intenzioni del Ministero di procedere alla chiusura della polfer di Sulmona. Non intendo indietreggiare di un solo passo dalle mie precedenti posizioni. Insieme al COISP sindacato che ringrazio per l'impegno e con le seduzioni locali abbiamo in questi anni evitato la chiusura ottenendo già la proroga ha continuato l'esponente PD. Dobbiamo insistere tutti su questa linea. A me sembra che non solo non si debba procedere alla chiusura ma si debba invertire la tendenza a svuotare il presidio e riconfermare la necessità del potenziamento dell'organico di polizia per scongiurarne definitivamente la soppressione a proseguito. Poi la senatrice ha espresso apprezzamento per le novità che il Ministro Menniti sta predisponendo in campo nazionale per garantire ai cittadini maggiore sicurezza e allo stesso Ministro ha sottolineato come la stazione di Sulmona rimanga uno scalo importante e prioritario per l'Abruzzo. La parola sicurezza è una parola importante. Nell'area interna c'è una fragilità insopportabile. Peraltro, nonostante la straordinaria professionalità e l'impegno estancabile dimostrato quotidianamente dal Commissario di Polizia di Sulmona che va ringraziato e sostenuto, lo stesso ha una sola volante sul territorio, insufficiente a garantire anche il controllo dello scalo ferroviario ha concluso la parlamentare.